bene ragazzi ciao amici di fisherlandia oggi siamo in compagnia dell'amico davide a tutti ragazzi perché vi vogliamo invitare a un evento che si terrà a santa margherita ligure insieme all'amico fabio storelli della tlm nautica vi vogliamo invitare a un corso di pesca completamente gratuito quindi un corso di pesca su quello che saranno le tecniche verticali dalla barca parleremo chiaramente di tecniche dalla barca un breve accenno sul volentino e sul volentino di profondità quindi porteremo noi del nostro staff tutte le attrezzature quindi voi venite sereni tranquilli non spendete nulla il corso è completamente gratuito vi ci faceva piacere ampliare un po questo discorso con chi di voi è interessato vi faremo vedere porteremo un po di artificiali vi faremo vedere quelle che sono le tecniche principali ne parleremo chiaramente in modo abbastanza generico perché è chiaramente una cosa abbastanza ampia e toccheremo tutti questi argomenti perché nella stessa giornata nella seconda parte appunto vi faremo vedere presenteremo il motore min cota motore elettrico distribuito dalla cappa di italy che è un motore che ci dà veramente una mano in questa azione di pesca dalla barca il nostro amico Davide ci spiega brevemente di cosa andremo a parlare allora noi faremo le tecniche verticali quindi lo slow pitch l'incicu il kabura andremo a parlare del volentino di profondità e anche del volentino leggero questo motore elettrico ha una funzione che vi sveliamo adesso ma non solo quella ma è la funzione che a noi ci ha colpito di più che ha la funzione ancora che ci permette di rimanere fermi sul nostro spot senza alcun tipo di ancoraggio quando abbiamo il vento che ci disturba l'azione di pesca questo motore è veramente una grande mano quindi ci sposta è una cosa che è veramente veramente una cosa ragazzi interessante anche interessante da guardare per chi magari di voi è interessato e non ha l'imbarcazione non c'è nessun problema però è una cosa veramente bella e sarà ancora più bello perché lo andremo a provare in pratica perché quindi a Santa Margherita noi avremo la location dove faremo il corso e nella seconda appunto parte andremo sul molo dove l'amico Fabio lo ha montato sulla sua barca e quindi faremo dal molo la dimostrazione pratica vi faremo vedere in effetti quali sono le funzioni che sono veramente veramente interessante bene ragazzi quindi io direi che a questo punto abbiamo detto tutto mi raccomando accorrete numerosi e potete iscrivervi a questo corso mandando una mail a info-fisherlandia.it che è la nostra quindi fate riferimento appunto al corso oppure l'amico Fabio Storelli alla sua mail che è info-tlmnautica.it quindi mandate nome e cognome il vostro recapito telefonico e fate riferimento appunto a questo corso vi aspettiamo numerosi anche se venite da fuori Genova vi passate comunque una bella giornata perché diciamo che Santa Margherita Ligure è sempre un posto veramente veramente bello quindi non mi resta altro che dirvi di seguire le nostre pagine Facebook e vi saluto ciao a tutti ragazzi e come sempre che la pesca sia con voi